La sedia però è vuota perché non è venuta, c'è anche inviato una lettera che tra poco leggeremo. Allora, cominciamo subito dal sindaco uscente Michele Marini. Ancora Domenico Marsi, Italia dei Valori, lista Marsi sindaco, Partito Socialista Italiano. Sergio Arduini, Fiamma Frusino, Destra Sociale. Buongiorno. Ancora Domenico Marsi, Italia dei Valori, lista Marsi sindaco, Partito Socialista Italiano. Sergio Arduini, Fiamma Frusino, Destra Sociale. Buongiorno. Alfredo Scaccia, gente comune di Frosinone. E per finire Giuseppina Bonaviri, la sedia però è vuota perché non è venuta, c'è anche inviato una lettera che tra poco leggeremo. Allora, cominciamo subito dal sindaco uscente Michele Marini. Per lui, diciamo, quello che è la presentazione del programma futuro coincide anche con una sorta di bilancio di fine mandato. Allora, di che cosa farà tesoro, di che cosa non è soddisfatto, che cosa invece vorrà continuare a fare se c'è una continuità, diciamo, fra il passato e il futuro? Buongiorno. Sono stati cinque anni di buon governo in cui abbiamo puntato sul welfare cittadino, che è uno dei migliori d'Italia. Abbiamo, con servizi rivolti agli anziani, ai disabili, ai bambini e soprattutto abbiamo iniziato la recuperazione della città a livello urbanistico con una serie di iniziative, sia pubbliche che private, ma soprattutto pubbliche, perché abbiamo varato un nuovo piano PEP per la città di Frosinone. Oltre a fare una serie di investimenti, circa di 100 milioni di euro in opere pubbliche, che hanno visto il sorgere di importanti opere pubbliche come il multipiano, l'ascensione inclinato, lo stadio del nuoto, il contatto di quartiere Cavoni, tre scuole, tre scuole nuove, una già realizzata, una che si sta ultimando e l'altra che i lavori stanno a periziare da qualche giorno. Per i cinquanti successivi è chiaro che c'è una continuità amministrativa in quello che si è fatto in questi cinquanti, in quello che si farà nei prossimi cinquanti, però i cardini sono sempre gli stessi, la solidarietà, il lavoro, le nuove infrastrutture e soprattutto la famiglia, perché è il centro dell'attenzione, il periodo in cui è difficile poter andare avanti, in questo periodo di crisi, la famiglia è un valore importante, e quindi dobbiamo essere solidari, soprattutto continuare nella serie di iniziative di sostegno della famiglia. Ecco allora, Nicola Ottaviani, candidato del centro-destra, sostenuto da Novi Lista, allora avete scelto di aprire la vostra campagna elettorale con la proiezione di un filmato che in qualche modo ha posto l'attenzione su tutti quelli che sono i punti critici di Frosinone. E quindi tra questi c'è una sorta di brutture che voi avete in qualche modo così riassunto, perché voi dovesse essere la svolta, quindi da che cosa partire? Noi partiamo dal presupposto che la città di Frosinone è un comune capoluogo, quindi non è l'ultimo dei comuni in provincia di Frosinone, né tantomeno il più piccolo. Ora, un comune capoluogo che nel corso degli ultimi dieci anni ha perso 1500 abitanti, quindi 1500 persone si sono trasferite altrove, significa che ha perso la capacità di attrarre interesse, attrarre risorse, attrarre sviluppo. Che cosa è avvenuto sostanzialmente? Le politiche scellerate in materia urbanistica non hanno prodotto nulla di buono, anzi hanno costretto tanti cittadini ad andare a comprare casa fuori Frosinone perché il prezzo del mattone era lievitato fino a 2000-2500 euro a metro quadro. È normale che le nuove coppie o le nuove leve non abbiano avuto la possibilità di comprare o anche di affittare un'abitazione in quel di Frosinone. Quindi parallelamente a quello che avviene in un'azienda, se l'azienda non fa profitto e dichiara sostanzialmente fallimento, così un'amministrazione comunale che non riesce ad attrarre risorse e che addirittura fa andar via da Frosinone quelli che sono i propri residenti, è costretta a dichiarare una sorta di bancarotta amministrativa. Quello che noi intendiamo fare è ripartire dalla qualità della vita. È inammissibile, è inconcepibile vedere Frosinone, leggerlo su tutte le cronache nazionali, sul Sole 24 Ore, su Repubblica, sull'Espresso, toccare sempre il fondo all'interno di queste graduatorie. Basti pensare che per quanto riguarda il PM10, quindi quelle polveri sottili che incidono pesantemente su quello che è il profilo della respirabilità dell'aria, nel 2007 venne assegnato il cigno nero da Lega Ambiente proprio al comune di Frosinone. Tra l'altro il segretario provinciale, il coordinatore provinciale di Lega Ambiente faceva parte, e fa tuttora parte dell'Aggiunta, quindi dell'amministrazione uscente, come responsabile dell'ambiente. In quel caso Frosinone toccò 137 giorni di superamento delle soglie per quanto riguardava la tolirabilità dell'aria. Le calcoli che a Roma due zone, che sono quella di Corso Francia, vicina poco qui rispetto ai vostri studi, e quella della Tiburtina, arrivarono a 116 giorni. Sono due realtà completamente differenti, il territorio va ridisegnato, va riportato avanti uno sviluppo completo che attenga sia l'economia, sia la qualità della vita e quindi la respirabilità dell'aria. Ecco, quello della qualità della vita tra l'altro è uno dei temi ricorrenti in questa campagna elettorale qui a Frosinone. Marina Covari, 38 anni, sostenuta da SEL, PRC, Frosinone Benecomune, anche consulente ambientale. Il sogno per voi è proprio quello di fare di Frosinone una città di missioni zero? Sì, in realtà c'è stato il fallimento totale delle politiche ambientali negli ultimi mandati, perché Frosinone è sempre agli ultimi posti dal 1997 ad oggi. Noi abbiamo una visione differente, perché le politiche ambientali le dobbiamo considerare ad ampio spettro. Ovviamente facciamo riferimento alle politiche ambientali del nuovo millennio, quelle che comprendono sia le tecnologie ecoefficienti, sia ovviamente l'educazione ambientale, l'informazione e la comunicazione, e sia ovviamente un modo differente di costruire la città intorno all'uomo, intorno ai bisogni, intorno alla partecipazione e alla trasparenza amministrativa. E soprattutto, guardando dall'alto Frosinone, ci rendiamo conto perfettamente tutti quanti che il vecchio sistema basato sulla cementificazione forzata è un sistema che ha prodotto i suoi limiti ed è totalmente fallito. Ovviamente questo ha prodotto una concentrazione di potere lobbistico che ha mandato avanti questo programma di disurbanizzazione. Il nostro progetto urbanistico prevede ovviamente un piano regolatore, un Pugicci come si chiama oggi, un Pugicci che deve essere condiviso con la popolazione e poi dopo realizzato attraverso delle linee politiche ben precise che sono quelle della sostenibilità. E tutto il nostro programma è in sintesi una denuncia a quanto fatto finora, perché purtroppo ci troviamo in una città assolutamente poco vivibile e poco dimensionata. Le grandi opere sono sovradimensionate rispetto alla reale capacità della cittadinanza. Le persone, è vero, sono diminuite, quindi non c'è bisogno di fare nuove costruzioni. Le frontiere dell'edilizia sono state dichiarate a livello europeo, c'è l'edilizia sostenibile, insomma ci sono la bioclimatica, la bioedilizia e via discorrendo. Quindi per noi metri, cubi di cemento zero, sostenibilità a tutti i livelli, partecipazione e ovviamente una chiara denuncia di quanto è stato fatto fino ad oggi. Ecco, Enrica Segneri del Movimento 5 Stelle, 30 anni disoccupata, tra l'altro è la candidata più giovane tra gli otto in Lizza, qui per Frosinone. Per voi non solo la trasparenza è fondamentale, la lotta agli sprechi, è pronta anche a ridursi lo stipendio se sarà eletta? Sì, noi abbiamo nel nostro programma assolutamente come punto fondamentale, come punto cardine, diciamo una questione morale. La questione morale viene intesa sia a livello di trasparenza amministrativa che purtroppo non abbiamo riscontrato nella vecchia amministrazione per quanto riguarda appunto i bilanci oppure gli stipendi, le busse paga, comunque non sono mai presenti nel sito del comune. È necessario che adesso il cittadino sappia come funzioni all'interno delle istituzioni pubbliche. Quindi la trasparenza al primo posto, una partecipazione diretta da parte dei cittadini in quelle che sono anche la costruzione stessa del programma, in quanto noi pensiamo che i cittadini debbano essere interpellati anche per le grandi opere pubbliche, per esempio attraverso dei referendum abrogativi senza quorum, appunto per comprendere quali sono le reali necessità dei cittadini sul territorio. Poi parliamo anche di rimettere il nostro mandato, ciò significa chiedere anche ogni sei mesi o ogni anno un feedback su quello che è l'operato dell'amministrazione e appunto per capire quali sono le criticità e magari intervenire sulle stesse. Ovviamente la trasparenza è anche sul fatto che noi ci proponiamo come una lista di giovani incensurati, quindi vogliamo un po' essere quello che è una sorta di occhio attento da parte del cittadino per quanto riguarda la politica nostrana che purtroppo molto spesso è implicata in situazioni poco trasparenti. E in più un altro punto cardine del nostro programma è sicuramente l'ambiente e l'ecosostenibilità, nel senso che Frosinone purtroppo è al secondo posto come le città più inquinate d'Italia dopo Torino, quindi abbiamo sicuramente un primato che non vorremmo più avere. Cerchiamo anche nel nostro programma di renderla anche più vivibile attraverso la riconversione della mobilità perché noi ci teniamo a dire che appunto Frosinone ci dovrebbe essere meno uso delle auto ma più possibilità di usare appunto la bici attraverso la creazione di piste ciclabili. Grazie. Allora idee proposte a confronto sul programma in vista delle amministrative a Frosinone, vi ricordo che si vota il 6 e il 7 maggio. Allora, Domenico Marzi, sostenuto dai Tele dei Valori PSI e Lista Marzi, lei è stato tra l'altro già sindaco di Frosinone, due mandati dal 98 al 2007. Allora il centro-sinistra presenta praticamente a Frosinone tre candidati. Come mai? Le forze politiche che io rappresento si ripropongono alla città di Frosinone, ai cittadini e agli elettori con un rinnovato entusiasmo, una determinazione a continuare quello straordinario periodo che fu soprattutto caratterizzato dall'incisività nella realizzazione delle opere pubbliche dal 98 al 2002 che ha poi decisamente sofferto dal 2002 al 2007 quando non avendo avuto la maggioranza, anche perché alcuni partiti non riuscivano a formare adeguatamente le liste, obiettivamente ci fu sofferenza e non incisività nell'azione amministrativa. Comunque sostanzialmente ci ripresentiamo con la stessa proposta del 2002, voglio dire al di là del Partito Socialista che con grande piacere viene ad aderito alla nostra proposta amministrativa, c'è la lista Marzi, che è la lista che io rappresento, dove vengono ospitati come nel 2002 anche elementi della destra, della destra di Frosinone, come del resto negli altri partiti, perché vede, ormai noi assistiamo ad una frantumazione del quadro politico. Per cui è facilissimo trovare persone di destra con me e ci sono, come è facilissimo trovare persone di destra ovviamente con Nicola Ottaviani, ma anche altrove, perché ci sono personaggi che vengono dall'Mst di destra nazionale che sono candidati con Michele Marini. Quindi dico questo per sfatare le operazioni di quanti ritengono che da parte mia ci sarebbe la destra, mentre la destra altrove non ci sarebbe. Io sono orgoglioso di avere persone capaci che si candidano con me per condividere il programma di Frosinone. Il programma di Frosinone deve essere estremamente concreto, deve partire dal presupposto che abbiamo una difficoltà economica che è nel Paese, un Paese che secondo me comincia a prendere delle posizioni decise rispetto ad un governo che è appoggiato dal partito di Nicola Ottaviani, dal partito di Michele Marini, dai partiti di Michele Marini, non certamente dai partiti che io rappresento e che quindi hanno una presa di posizione detta e di distinguo rispetto al governo Monti. Una cosa che mi ha meravigliato e molto è vedere la reazione asintomatica del Presidente Monti rispetto alla denuncia delle morti dal suicidio che ha fatto di Pietro in questa campagna elettorale. Pare che anche ieri sia accaduto qualcosa del genere. Di fronte a questi drammi, di fronte alla consapevolezza che non c'è una possibilità di reagire in poco tempo, ecco noi dovremmo andare ad amministrare sapendo che si deve essere incisivi con le risorse che abbiamo. Sergio Aduini, sostenuto da Fiamma Frosino, Destro Sociale, ex segretario provinciale del Movimento Sociale Fiamma Tricolore. Allora per voi in primo piano c'è il tema della sicurezza e delle politiche sociali, perché proprio la sicurezza. Sì, prima di parlare della sicurezza, che è il nostro punto cruciale, mi vorrei rilasciare le parole dell'Avvocato Marzi, che ha detto in questo momento che ha parlato di una frase fantastica, un movimento fantastico che si chiama Movimento Sociale Italiano e delle molte persone che si sono allargate in altri partiti. No, l'MSI e la vera destra sociale siamo noi, tutti quelli che si sono mischiati in altre liste sono gente che per noi sono persone inqualificabili, posso dirlo chiaramente, sono persone inqualificabili perché un'idea non si tradisce mai, mai, specialmente un'idea come la nostra. Per tornare alla sicurezza, adesso siamo nel momento delle favole, nel momento che tutto è risolto, ci saranno posti di lavoro, tutto quanto. Al cittadino, se lei va a chiedere al cittadino di Frosinone, quello che vede, gli chiede lavoro e sicurezza. Lavoro il Comune difficilmente potrà dare un posto di lavoro, al contrario di tanti personaggi. Ah, una cosa importante per i canziati sindaci, mettetevi d'accordo i vostri candidati perché promettono cose impossibili. Qualcuno va raccontando frottole. Sarebbe il caso che non passi indietro tutti quanti. La sicurezza, il cittadino chiede sicurezza. Frosinone ancora ringraziando il cielo è una isola felice, sembra, però siamo arrivati a un punto di non… ci manca poco, ci manca quel poco e quel poco a superare quei limiti non lo vogliamo vedere. Frosinone sta avendo un passaggio veramente particolare. Noi puntiamo anche molto sull'ambiente perché l'ambiente a Frosinone è veramente… siamo agli ultimi posti. Già gli altri candidati hanno specificato bene in che condizioni si trova Frosinone. Il nostro progetto politico è un progetto molto semplice che se possiamo avere possibilità di spiegarlo successivamente vi daremo qualche altro punto specifico anche sull'ambiente. Grazie. Grazie. Allora, Alfredo Scaccia, candidato per il Movimento Civico Gente Comune. Allora, lei ha una situazione diciamo particolare. Suo padre ha la lista che ha parentata con Ottaviani. Suo figlio è candidato con Marini. Lei invece ha una sua lista a parte. Insomma, tutti i dati della politica, ma siete un po' separati in casa oppure no? Beh, innanzitutto, dovendo rispondere per ultimo, evito di fare un riassunto di quelle che sono le considerazioni fatte da chi mi ha preceduto in relazione ai programmi, che poi se andiamo ad analizzare in maniera compiuta sostanzialmente convergono tutti nella stessa direzione. Io trovo vergognoso, trovo ultroneo, trovo assolutamente inconcepibile la politica di chi vessa in maniera estremamente negativa il passato della nostra città. Trovo oltremodo vergognoso dover ascoltare determinati personaggi che con una gravissima forma di locupletazione in danno di chi li ha preceduti nelle amministrazioni. Cercano il votarello per cercare di sostanzialmente ammainare le bandiere di chi ci ha precedentemente governato e questo lo trovo ingiusto sotto ogni punto di vista. Le rispondo alla domanda che lei mi ha formulato. Perché mio padre è con Nicola Ottaviani? Perché mio figlio è con Marini? Perché io sono da solo? Vede, in una nazione dove le idologie non esistono più, si scelgono gli uomini. Mio figlio ha deciso di scegliere Michele Marini e le motivazioni che sostengono questa scelta le condivido. Mio padre ha deciso di scegliere Nicola Ottaviani e le motivazioni che mio padre pone a sostegno della sua scelta le condivido. Io finirò per scegliere probabilmente Marzi, se andrà al ballottaggio perché così faremo del principio democratico una scelta comune. Ma in realtà il problema fondamentale che nessuno ha sentito tratta in tutte queste discussioni che si vengono a formalizzare innanzi alle televisioni è il problema reale del cittadino di Frosinone. Noi convochiamo al voto i migliori ciociari. Questo vuol dire che noi saremo al servizio di tutte le persone che hanno realmente bisogno delle cose più piccole, delle cose più basilari per poter portare avanti una città e farla crescere. Allora, sentiremo tra poco in che modo, quali sono le vostre proposte. Si cresce, mi lasci dire, se ricordiamo soventemente il passato che è figlio di ognuno che lo ha gestito. I ciociari lo sanno. Smettiamola di parlare male del passato e proponiamo qualcosa per il presente e il futuro. Allora, ci sarà lo spazio per una seconda domanda, ma prima diciamo di andare avanti, ecco, volevo, appunto, abbiamo detto che Giuseppina Bonaviri, che è sostenuta da Due Liste, non è presente. Volevo leggere, diciamo, un riassunto della lettera che ci ha inviato e con la quale ci motiva questa decisione. Abbiamo scelto la gente e non le vetrine, una scelta condivisa con la base, quella di non essere presente ai salotti televisivi, perché scrive la politica dei partiti attuali, ama le poltrone e recita in modo monotono un monologo stereotipato, uguale e ripiegato su se stesso. Il potere, ben rappresentato dal fondo schiena stanziato su una poltrona qualunque esso sia, continua a scrivere, noi abbiamo scelto consapevolmente la piazza, scrive la candidata Giuseppina Bonaviri, le vie e le periferie di Frosinone, il porta a porta, il confronto franco e diretto con il cittadino a costo zero, fuori dai protocolli e dai recinti pilotati. Allora, facciamo una seconda domanda agli otto candidati a sindaco qui a Frosinone, anzi sette, perché abbiamo appunto appena detto che Giuseppina Bonaviri non è presente. Allora, Michele Marini, tra le opere, diciamo, realizzate a Frosinone c'è quella... Grazie a tutti.